lo sai che martedì torna il sole e torna anche il nostro open house si potrei venire a visitare questa casa liberamente senza appuntamento dalle 10 alle 13 e puoi portare chi vuoi dove siamo in via olivieri numero 27 barra di a due passi dal corso d'augusto di fianco al ponte di tiberio e al parco 25 aprile perché devi venire a vedere questa casa perché è bella e comoda e ottimamente servita al giardino privato l'ingresso indipendente ed anche il garage ne vuoi sapere di più scopri i dettagli nel link qui sotto e vieni a toccare con mano ti aspettiamo martedì dalle 10 alle 13 direttamente qui alla casa